Ma il mio look è abbastanza coatto, non dimostrarlo troppo, anche se magari ho la camicia così per il petto, magari in collanine tipo da battaglia, che tra l'altro questa mi ha regalato la mia ragazza, con i suoi dati e i miei dati. E niente, uso colori molto sobri, forse anche per paura di essere troppo appariscente, non lo so, anche per paura. Magari mi piacerebbe mettermi una camicia, non so, può, non me la metto per il giudizio della gente, forse è un'insicurezza anche mia, non lo so. Se osi hai le palle, vuol dire che comunque non te ne applica il giudizio della gente, non sai che tu stai bene con te stesso, ti piace in quel modo e il cervello poi fa brutti scherzo. Ecco, le cose che non mi mancano sono bracciali, orologi, anelli, che adesso ci sono anche tra l'altro pochi per essere appunto sobrio per la puntata. Sì, quelli si collane di ogni tipo, anche quelle magari africane, che magari mi metto più l'estate, quello sì. Piercing, sì, c'erano anche uno sull'acciglio, tra l'altro mi si è andato, non so, buttavano in 28 metri, mi si è schizzato via. Piercing, prima ero pieno anche sull'orecchio, sull'ombelico. Aguaggi, comunque, la cura del corpo, insomma. Sono un po' narciso sotto questo aspetto. Sì, davvero, tanto sobrio nella moda, camicia bianca e jeans.